aggettivi gli aggettivi ci aiutano a descrivere i sostantivi a volte secondo il nostro gusto soggettivo bello o brutto, altre secondo le loro caratteristiche piccolo o grande, scuro o chiaro, giovane o anziano lì, fa freddo o caldo? Servono maniche lunghe o corte? Lungo, lunga è il contrario di corto, corta lui è alto e io sono bassa, ma siamo comunque una bella coppia alto, alta è il contrario di basso, bassa abbiamo preparato una valigia grande e una borsa piccola grande è il contrario di piccolo, piccola la mia borsa ormai è vecchia, ho deciso di comprare una borsa nuova è il contrario di vecchio, vecchia se mangi spinaci, il braccio di ferro è molto forte altrimenti è debole di giorno caldo, di notte o freddo? Di giorno caldo, calda la pasta era buona, ma il vino era cattivo ma il vino purtroppo era cattivo, cattiva al ristorante mangiamo insieme, ma quando arriva il momento di pagare, ognuno fa per sé insieme insieme ma al momento del conto separatamente come si spiega a un bambino cosa sono destra e sinistra se non ancora l'orologio? adesso provo a parlare come un GPS alla piazza girate a destra, al semaforo girate a sinistra ognuno ha i suoi gusti, si sa, eppure ci pare di sapere cosa e chi è bello, cosa e chi è brutto durante i saldi questi abiti cari diventeranno economici io preferisco economico, economica magari potessi permettermi un'auto scura per l'inverno e una chiara per l'estate è il contrario di chiaro, chiara avete mai sentito dire che fa male bere dopo aver mangiato l'anguria? beh, oggi si sa che non è così si può mangiare l'anguria prima di bere acqua e bere acqua dopo aver mangiato l'anguria nessun problema né prima né dopo prima vorrei sistemarvi in fila il primo davanti al secondo il terzo dietro al secondo e prima del quarto che è primo del quinto mamma mia è un casino riproviamo davanti o dietro siamo in autostrada tutti viaggiano veloci cosa ci fa qui una macchina così lenta? veloce è il contrario di lento lenta man man parlo velocemente e pensare che mi sforzo di parlare lentamente scadendo ogni parola ve-lo-ce-mente è all'opposto di lentamente man 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 gli ospiti sono andati via tardi avrei preferito che se ne andassero un po' più presto presto. Ma sono andati via tardi. Scusi, è permesso fumare qui? Assolutamente no, è proibito. Permesso, permesso. Se non è permesso è proibito. Ho ricevuto la macchina col serbatoio pieno, ma l'ho restituito vuoto. Piena. Ma l'ho restituito vuoto, vuota. Quel che è giusto è giusto. Giusto, giusta. Doi, doi. Ho errato, errata. C'è il tuo piatto è pulito? Il piatto è sporco, sporca. Zang, zang. Sono arrivata con un regalo ma senza biglietto d'auguri. Con. He, he. È il contrario di senza. Meio, meio. Il bagno dell'aereo è libero. Libera. Con. De. Con. De. Prima era libero, adesso bisogna aspettare. È occupato. Occupata. Yo. Ren. Yo. Ren. Il ristorante è chiuso. Non posso resistere finché sarà aperto. Aperta. Kai. Men. Kai. Men. Ma adesso è chiuso. Chiusa. Quan. Men. Quan. Men. Le persone anziane raccontano storie interessanti, ma i ragazzi giovani non hanno la pazienza di ascoltarle. Giovani. Niente. 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 Vecchio. Vecchia. Yes. Ma. La. 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 Instante. Ehi dove corri? Perché hai mandato avanti il film? Rimandalo indietro. Non ho visto cosa è successo. Indietro. Indietro. Signfe. Ho visto, puoi mandare avanti. Non capisci? Ti sembra complicato? Te lo rispiego e vedrai che è semplice. E' solo apparentemente complicato, complicata. Non mi senti? Sei lontano? Vieni vicino e sentirai tutto. Vicino, vicina, vicino. O lontano, lontana. Cosa è meglio? Una velligia pesante o due leggere? Leggero, leggera. È il contrario di pesante. Dite la verità. Fino ad ora è stato facile o difficile? Facile. Non è stato per niente difficile. L'asciugamano è bagnato. Posso averne un asciutto? Bagnato, bagnata. Ricordate i comici staglio e olio? Olio era grosso, grosso. Mentre staglio era magro. Mentre staglio era magro. Shou. Shou.